E' stato ed è un grandissimo artista amatissimo dal pubblico del suo paese. Si esibisce alternando un organetto, strumento tipico dell'osteria da quelle parti, un organetto che ha ereditato dal nonno e del quale stamattina ci ha raccontato il lento consumarsi dei tasti e del legno, organetto e chitarra. La sua musica fa riferimento a diversi... E' dura rappresentare un grande così. Fa riferimento a diversi stili, a diverse fonti, c'è la chanson francese, ma c'è anche il folk americano, c'è il blues, ma soprattutto è una musica che parla, che ci parla del cuore dell'Europa centrale. E Premio Tenco quest'anno ci ha aiutato a portarlo in Italia un amico del club che voi già conoscete, Alessio Lega, al quale abbiamo chiesto di aprire il concerto con un brano che Alessio ha tradotto, un brano di Jerovino Abiza che Alessio ha tradotto. Alessio Lega. Grazie.